E in questo video vado a testare questa bobina di PLA prodotta da Filoprint che promette una finitura opaca esente dalle irevvidenti. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale dove pubblico i video riguardanti la tecnologia e la stampa 3D. Se sei interessato quindi a questo argomento ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella. Inizio subito quindi ad andare a effettuare i primi test con le prime stampe e ci vediamo tra poco per vedere se la promessa iniziale è stata mantenuta da questo filamento. Iniziamo come solito con una temp tower. Il produttore riporta una temperatura di stampa consigliata tra i 190 e i 210 gradi. Ho avviato quindi una temp tower con 5 gradi che cedono da entrambi i limiti del range per rilevare una temperatura di stampa ottimale di 205 gradi. In realtà la temp tower mostra dei problemi nell'area tra i 200 e i 205 gradi, il che mi farbbe pensare a stampare intorno ai 195, ma dopo le svariate stampe successive ho concluso che la temperatura migliore è intorno ai 205 gradi. Preciso che anche la base della temp tower è stata stampata a 215 gradi anche se incisa a 220 per rimanere all'interno del range prefissato. Passo alla calibrazione del flow. Per prima cosa ho misurato il diametro effettivo del filamento che risulta essere tra 1.74 e 1.76 mm. Ho stampato quindi il cubo cavo con un solo layer perimetrale con un layer width di 0.48 mm, come di default su Simplify 3D, con il 98% di flow ed effettivamente la misurazione riporta esattamente tale dimensione. La Retraction è gestita in maniera egregia da questo filamento. Ho stampato ben 5 torri con Retraction da 1 a 5 mm, sempre a 30 mm al secondo. Ed il risultato ottimale è con l'ultimo valore citato. Ecco quindi le 5 stampe e come ci si può aspettare si nota un notevole miglioramento all'aumentare della distanza di Retraction. Infatti l'ultima stampa di 5 mm offre un risultato apprezzabilissimo che permette stampi di modelli con porzioni molto ravvicinate senza avere problemi. L'overhang angle test è un'altra vittoria per questo filamento che ne esce con una valutazione piena. La stampa perimetrale non dà problemi a questo filamento. Infatti ho stampato due modelli con risoluzione 0.2 e 0.4 mm e si nota una leggera differenza tra i due che può essere riassunta in un miglioramento di circa 5 gradi. Infatti la versione da 0.4 inizia ad avere problemi attorno ai 70 gradi, invece quella da 0.2 mm si comporta in modo accettabile sino ai 75. Passiamo al bridging, dove ho testato la stampa sul vuoto su distanze da 1 a 10 cm, con un risultato per niente male. Fino a 80 mm non si hanno problemi, successivamente si iniziano a notare i primi strati che collano dal modello, ma nessuno di questi ha ceduto o creato particolari problemi, un risultato nella norma. Segue la stampa della famosa barchetta 3D Benji, stampata a due diverse risoluzioni con la temperatura ottimale rilevata precedentemente. Il risultato è esteticamente molto valido. È talmente valido che si fatica a notare dei problemi nelle stampe. L'opacità di ridotto del filamento permette di intravedere l'interno mostrando il pattern dell'infil. La scritta sul fondo è chiara, si nota raramente qualche punto in under extrusion che può benissimo dipendere dalla stampante e nella versione da 0.4 mm di layer 8 si notano dei leggeri problemi nella parte superiore dell'arco. Per curiosità personale ho sottoposto il modello 3D Benji ad elevate temperature. Semplicemente ci ha versato dell'acqua bollente per analizzarne il comportamento. Risultato? Il modello si è infranto dopo poche torsioni impresse con una pinza. Preciso però che controllando il datasheet del materiale, questo resiste al calore fino a 60 gradi, un valore che rientra nella norma per i PLA. Quindi il risultato ottenuto non è di certo vincolante per la recensione. Passiamo alle proprietà meccaniche che ho diviso in due parti. Il primo test è la resistenza alla trazione con un moschettone che ha ottenuto la valutazione sufficiente. In questa parte inoltre è possibile anche notare la facilità di rimozione dei supporti. Nel secondo test di trazione utilizzo questo modello per imprimere una forza e cercare di portare a contatto i due estremi. E come si può notare il filamento tende a deformarsi elasticamente ma si infrange dopo diverse torsioni. Di seguito ho continuato a stampare dei modelli inerenti all'utilizzo di questa bobina. Lascio quindi alcune clip per apprezzare le qualità estetiche di un modello di Einstein. Un tempio in miniatura. Un capitello. Ed infine un modello della casa bianca. Il colore trasparente e l'opacità di questo filamento mi piacciono veramente tanto come caratteristiche. A mia parere tra i PLA che ho testato in precedenza questo è sicuramente tra i migliori. Grazie agli additivi aggiunti il materiale risulta essere molto resistente alla trazione e alla torsione. Cosa che non spesso o meglio quasi mai si nota nei PLA. Il materiale si stampa come qualsiasi altro PLA quindi non si ha bisogno di particolari attenzioni. Nei vari parametri è discretamente semplice stamparlo. Gli strati sono effettivamente molto molto coesi quindi la coesione tra i l'air è effettivamente molto molto valida. Quindi la rifinitura speciale offre un'elevata risoluzione visiva ed è apprezzabilissimo il risultato che si va ad ottenere. Più sotto puoi trovare le impostazioni di stampa che ho utilizzato con la mia Anette per stampare a meglio questo materiale. E se lo acquisti anche te e hai te problemi nel stamparlo scrivi pure nei commenti dove sarò felice di aiutarti. Per qualsiasi altra domanda resto comunque disponibile. Qui di fianco trovi la mia playlist dedicata alla recensione dei filamenti 3D. Più sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima. Stammi bene!